Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova in uscita provenendo da Genova. In A11 stanotte in orario 22.6 sarà completamente chiuso lo svincolo di Capannori. Si ricorda che fino al 9 marzo resterà chiusa la funicolare di Certaldo per lavori di collaudo e manutenzione. È attivo il servizio di trasporto alternativo. A causa del forte vento e del mare molto mosso con onde fino a 4 metri sono attualmente sospesi i traghetti con l'arcipelago toscano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!